Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per lavori code in uscita a Firenze Sud in direzione Roma, sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, sulla A12 per lavori code a tratti tra Massa e Versilia in direzione Livorno e tra Viareggio e Versilia in direzione Genova. Sulla FIPILI per lavori due chilometri di coda tra Lavoria e Ponte d'Era Ovest e Ponsacco in direzione Firenze, per traffico intenso code in uscita a Lastra Segna in direzione Mare, rallentamenti tra Scandici e Firenze Scandici in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze in via Bolognese rallentamenti per restringimento di carreggiata. Puoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio. Grazie a tutti.